Inizialmente Inizialmente Abbiamo due fratelli uno è da Italia e uno da Svizzera e tutti sono convertiti in Islam Masha'Allah Oggi abbiamo due fratelli uno della Svizzera e uno dell'Italia sono tutti e due convertiti all'Islam alhamdulillah Oggi parliamo del miracolo santificio del qur'ano Allora diciamo shahada in francese e in italiano In italiano Attesto che non c'è divinità all'infori di Allah e attesto che non c'è divinità all'infori di Allah In francesi In francese In italiano Un italiano Attesto che non c'è divinità all'infori di Allah e attesto che Muhammad è il suo messaggero. Il nostro fratello dell'Italia parla del miracolo scientifico, insha'Allah. Miracoli scientifici del Corano. Islam is the truth and Islam is the best religion. Islam is the best religion. Islam is the best religion. Islam is the best religion.